Sono le 16.25 del 20 novembre, ecco, stamattina è apparso l'11 vulcano di Corsia, ma era deboli, deboli, adesso vedo di mostrare i piammi, congratulazioni, anche ad occhio nudo si vedeva. Ora pare una foto, hai perso un po' di tempo perché poi, adesso a poco, non ritorna. Grazie. 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 Sono le 16.46 del 18 marzo 2016 sta scendo il vulcano di Corsia, accanto a Alice esce il vulcano di Corsia, la Corsia esce il vulcano di Corsia, col fuoco, subito. Ma qui è il pieno male. Ma qui è il pieno male. arriva l'obbligo grazie